Ah, andate voi, andate voi, andate voi, andate voi, dai Robby, sai che non so se ho testato? No ma mi avete costretto a dirlo? Sì, quindi però se ne voglio... Ma a me non mi hanno fio un cazzo, ma fino a quando se li andiamo con gente che sbagliò dopo tutto, non ho male, io devo fare ancora per stare in campo, grazie, perché no, l'ho fatto a diritto. Ma dai, basta, no, 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 no. Non è veramente un po' di scoglie. E' una serie che ritirà un po' così. 36, 0. O batti con questa, batti con questa. Batti con questa. Ciao, Mini. Mini di là, andate. A quando... Sembra a noi. Ma è la tua. Buona, buona. Buona, buona, buona. E' buona, buona, buona. possibilità di primo punto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti